5, 4, 3, 2, 1, vai! Dosso su sinistra 3-, in ritarda legno, destra 3, secca, per sinistra 4, e sinistra 2 no, no Alessa eh! In destra 2 no, per sinistra 3- si dopo, per destra 3 si, 50 con dosso, al palo destra 4, e destra 4, in ritarda sinistra 3-, per destra 4, in sinistra 3-, e sinistra 2 secca e chiude, occhio all'interno eh! In ritarda sinistra 3- sporca, e all'inizio del cemento Alessa, sinistra 3, in destra 4, in ritarda sinistra 2 sporca, in destra 3, 70 destri, sinistra 3- più, e dosso sinistro vai, aspetta, sinistra 3 più, e dosso sinistro vai, e 30, oh, la barra più di dio, destra 3, apre lunga e chiude, chiude 3, lunga e chiude 3, taglia, quando lo taglio prima abbiamo toccato circa, in sinistra 4 meno lunga, in destra, sinistra 4 meno, e occhio, è sporca, sinistra 4 lunga e stacca, stacca su destra 2 essa, bastarda eh! Però torniamo sull'asfalto, 30, sinistra 3, apre 4, in destra 4, per sinistra 4 lunga lunga si, e destra 2, ok, in 2 questa eh, in muri, sinistra 3, 50, attenzione al rosso, destra 1, al bivio, occhio, non tagliare, versi, in destra 3 più, in destra 3 più, lunga lunga e chiude 3, taglia, all'altre taglia eh, e destra 3 sì, in sinistra 2 sì, in ritardo a destra 3 sì, 30, alla casa sinistra 2 più, secca, e sinistra destra 3 più, e destra 3 sì, su sinistra 3, meno, 3 meno questa eh, 50 destri, destra 4 chiude 3, in sinistra 3 meno sì, per destra 2 più, sì molto eh, su sinistra 2 meno, in destra 3 sì, in ritardo a sinistra 3 più, chiude al palo, per destra 5 lunga, e continua anche dopo il muro, ok, 50, dosso su sinistra 5 per, attenzione, dosso destro stacca a destra 2 eh, ricordi, ok, su sinistra 2, e ritardo al palo, sinistra 3, su destra 3 meno no, in sinistra 3 no, su attenzione destra 3 stai a destra, chicano destra eh, e destra 3 meno, e occhio sinistra 2 secca e compressione su ponte, e sinistra 3 sale, e ritardo a destra 2, in sinistra 2, su destra 2, in sinistra 3 lunga, e 20, ritardo a sinistra 2, su destra 2, in sinistra 2 più, 30, al muro sinistra 3 più lunga e chiude, per destra 5, e al paletto destra 4 meno, per sinistra 4 più, 50, dosso su sinistra 5 lunga e chiude 3, al terzo palo, per zigzag, destra 4, su sinistra 4, 100 vista, buono Alessa, ritardo a destra 4 meno, per sinistra, ritardo a destra 2 lunga, sinistra, ritardo a destra 2 lunga, e dosso dritto, su sinistra 3, due tempi, il secondo è lungo eh, uno e due, questo è lungo Ale, in destra 3 lunga, per sinistra 4 meno, per destra 4, per sinistra 5, in ritardo a poco destra 4, 50, sinistra 5, su dosso vai, e dosso stai a sinistra, su destra vai, si vola ragazzi, 50 destri, dosso lungo lungo dritto, stai a sinistra, 30, dosso stacca Lessa, per sinistra 5, e ritardo a legno, sinistra 2, in ritardo a destra 2 meno, su sinistra 2, in occhio ritardo a destra 2, su sinistra 2, ritardo a destra 2 chiude, su sinistra 2, 30, sinistra 3, e fine PS, al palo destra 3 meno, vai, Sì, dove siamo andati? 5,35 ho preso.